Sono stati, come hai detto tu, anni molto difficili, non solo per noi ma per tutto il mondo e quindi trovarsi a governare in questo periodo non è stato affatto facile. Però noi in questi cinque anni abbiamo lavorato in silenzio, abbiamo programmato e speriamo che nei prossimi cinque anni di raccogliere i frutti di questa lunga e silenziosa programmazione. Il consenso è stato ampio, non ci sono elementi che mettono in discussione questa vittoria e quindi il merito va a tutta la squadra, a tutti coloro i quali hanno lavorato in silenzio in questi cinque anni e quindi il merito è il loro innanzitutto. Io spero che sia la legislatura per la realizzazione di tutti questi programmi, di queste programmazioni che abbiamo messo in campo, non solo in termini di opere materiali ma anche di opere immateriali, la possibilità che questo comune possa avere il giusto spazio, il giusto merito all'interno del Vallo di Diano come l'ho stato in questi cinque anni e quindi ringrazio anche tutti gli amministratori del Vallo di Diano che in questi giorni mi hanno attestato la loro stima, quindi sia essendo presenti in piazza sia telefonicamente stanno continuando a farlo in questi minuti onestamente. Grazie. 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 Grazie.